Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale! Siamo su Farming Simulator 19 serie Fezbrun. Prima di iniziare con un nuovo episodio, guardate il link in descrizione perché troverete il link per il mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato, il link per entrare a far parte del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, i link delle donazioni se volete contribuire e supportarmi con una piccola donazione e poi trovate anche i link per comprare Farming Simulator e tutti i DLC che sono usciti direttamente dal sito della Giants che se li utilizzate a me mi arriva un piccolo contributo, oppure c'è il link per comprare Farming Simulator 19 scontato su Instant Gaming. Detto questo raga, iniziamo a giocare, buona visione! Eccoci qua ancora su Farming Simulator 19 mappa Fezbrun con l'aiutante Lisa Wolf. Allora raga, continuiamo la scorsa volta, lo scorso episodio, non abbiamo fatto per tempo a preparare i terreni che abbiamo per la semina. Qua si sta facendo anche sera, quindi tra poco ci toccherà anche fare pausa a nanna, magari faremo passare la giornata se no è buio e non si vede niente. Allora, dato che io ho dato la calce al terreno 18, c'è comunque da fertilizzare prima di seminare, quindi Lisa ci invertiamo, tu continui a dare la calce che è il 26 che richiede la calce e io fertilizzo il 18. Io uso il coso vecchio. Ok, sì, e guarda quante ore ha, ti diverti con quello lì. Quindi continuiamo i lavori per il momento appunto sui terreni, vediamo se riusciamo a finire per tempo in questo episodio, perché raga, le cose da fare ce ne sono davvero tante qui. Allora, come si accendono le lucine, che non me lo ricordo più? F o F? R U A Sì, no, che R 1, tu dalla tastiera a mo' devi di... R 1 e cerchio. Ok, allora, io avevo dato la calce a questo terreno, quindi adesso ci fertilizzo su... ci spruzzo il fertilizzante. Ok. Così cambiamo, mentre Lisa si occupa appunto dell'altro. Allora, se faccio in tempo, lo tengo a 5 il tempo, perché ho bisogno che le mucche producano un po' tutto, insomma, si deve muovere un po' tutto, per quello tengo il tempo che va a 5, che comunque è poco lo stesso. Ma non avendo questa partita caricata in un server, ma è una partita single player, quando non ci gioco sta tutto fermo, quindi quando gioco magari tengo la velocità del tempo a 5, giusto per far muovere un po' più velocemente il tutto. Beh, ti conviene. Eh, mi conviene, sì. Se no i maialini, vabbè, perché sembrano dei conigli, però... No, no, perché sì, per l'allevamento dei maialini, per l'allevamento delle mucche, per le uova, cioè in generale, capito, alla fine. Un po' per tutto. Perché ho bisogno che le mucche facciano latte e pure il concime. Che quel concime magari lo diamo per le serre, che ci sono le serre da rifornire. Quando avrò abbastanza concime, sia da maiali che dalle mucche, risparmierò qualcosina magari sul fertilizzante, capito? Perché l'hai visto, costano tantissimo. E io vado di fertilizzante naturale appena riesco. Mi senti al mattino quando apriamo le finestre. Esatto. Poi guarda, la stalla delle mucche non è tanto lontana da casa. No, no, ma infatti, poi la camera diretta proprio guarda in lì, così vedi anche Fulippa che ti dice... Esatto. Quando arieggia, poi arieggia bene, eh? Eh, guarda, è una meraviglia. Ti piangono gli occhi senza allergia. Proprio una commozione. Si lavora anche di sera qui. Mi stava uscendo un serastra. Di setta? Eh no, di setta. No, sera ma con la R strana. Sera? Eh, è una cosa del genere. Sera. Colpa di Lisa. Che c'entro io? Vedi? Io l'ho fatto apposta. La tua R mi contagia ogni tanto. No, no, la Ramoscio. Ogni tanto succede. Succede a tutti. Poi ci divertiamo a seminarli, sti terreni, raga. Mi piace di più trebbiare, perché quando trebbiamo poi c'è il raccolto da vendere, si fanno i soldini. Come sei materialista. Io non ci vedo più in un tubo. No, beh, sì, sì. Sistema l'illuminazione del tuo schermo, perché... Ah no, scusa, vi voglio occhi chiuse. Ma va, va. Allora, questo è fertilizzato. E questo ha la cera. Il 21 l'hai fertilizzato tu, giusto? Sì, la cera, c'ha la calce. Questo c'ha la cera, sì. Daniel San. Sì, l'ho fertilizzato. Io so che ho fertilizzato un campo, puoi chiedermi qua. Hai fertilizzato il 21 la volta scorsa. Se lo dici tu. Mi fido. Io dove vado? Tu ora sei al... 26. 26. Qua. Sì, perché tanto tutti devo fertilizzarli, capito? Quindi... Sono tre alla fine, eh. Quindi questo è l'ultimo. Ed è la prima passata di fertilizzazione questa. C'è un buco. Perché c'è il buco? Aspetta un secondo. Perché lei non è che fertilizza, che ha in un senso. Forse ne va in giro per i campi. No, ho fatto in un senso, è che ho fatto una ritromarcia. Sì. Certo che se lo spegnevi non... Ah, c'è un altro buco qua. Aspetta. Ecco qui. Ma ce n'è anche uno là. Beh, questo lo finisco presto. Li sto fertilizzando io, perché dopo Lisa magari inizia a seminare. Però, siccome qua è notte, tra un po'... Mi dispiace perché poi voi col buio non vedete molto. Perché non capisco quando registro. Sembra che c'è più buio di quel che vedo io. Sì, sì, succede. Sembra che si perda un po' di illuminazione, non lo so. Quindi facciamo così, Lisa. Adesso... Vado a preparare gli spiedini di prugne. No, sai cosa puoi preparare? Il trattorino rosa... No. Con il caricatore frontale e la benna per pulire le mangiatoie. Perché appena passa... Mi inizio questo. Eh beh, appena passa la notte, al mattino presto bisogna pulire le mangiatoie degli animali. E come iniziare una giornata di M se non proprio facendo quello? Poi mi devi aiutare che carichiamo un cassone di popò. Ah, che... Di popò, va bene? Ah! Ma questo trattore non è furbo. Vuoi il trattore furbo? Guarda che quel trattore è vecchietto. Beh, sta così, guarda. Perché... Sì, dai, un quartissimo. Sienilo bene. Tratta bene i miei mezzi quando sei qui, perché se no manco le prugne e ti faccio mangiare. Digiuni direttamente, altro che spiedini. Eh, io non lo direi mentre c'è una che c'è in mano la tua cena. Ecco. Lisa, non è il caso. È tutto a posto, guarda. A posto siamo. Mi sa che digiuno io stasera. Hai visto come cambia? La notte gira. No, io non mangio, che schifo. Ma come, scusa? È tutto tuo. Perché sono scema, ho capito. Allora. Fatemi guardare un attimo la situazione dei terreni. Tutti fertilizzati al primo stadio, eh. Poi li seminiamo e dopo si rifertilizzeranno. Ok. A posto. Arati non vogliono essere arati, perché tutto già fatto. Sono semplicemente miei tuti. Allora, io vorrei fare un terreno a frumento. Uno ad avena e uno a semi... Mi spaventato. E uno a semi di soia. Ma secondo te quella benna è così perché è rovinata? Perché io l'ho provata a lavare, non si leva qualcosa. Ma dove? Ma dove? Dì, se tu dormi lì in quel trattore? No, che schifo. Dove sto andando? Ah, non lo so. Sì, però è rovinata. Buonasera Serafino. Serafino è pronto per la cena, giustamente. Premi dei miei aiuti un attimino. È bello vederti girare così, eh? Che bello. Eh beh, se ti fermi, l'aiutante ha cappottata. E complimenti però, eh. Fermati, no. Fermati, fermati. Adesso fermati, aspetta. Ehm, scusa. Sei più o meno parcheggiata. Eccola. Ok. Non. Sì, ti devi disincastrare, ma ce la fai. Ok. No, 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 tutto posso, guarda. Tutto non... Mettiamo, madonna quanta luce che c'è qui, quasi maceca. Ok. Aspetta. Filippa, stanotte, eh? Sgancia perché domattina ci serve. Lo dico. Sì. C'è anche Magda, eh? Sì, eh, lei è offesa con me. Perché? Un secondo. Signor Pollo, salve. Lei ha appena fatto chicchi di chi è anche suo fratello. Ma sono le 22. No, le 20 e 22. Quanto è bello il class, raga. Ma chi è che ha parcheggiato così? Ma non ci posso credere. Chissà chi è stato. Guarda come mi ha parcheggiato lo Stara. Ma è spento le luci? O lo dobbiamo lasciare tutta la notte con le luci accese? No, sono spente. Sei sicura? Sì. Sì, mi sembra di sì, va bene. Vuoi andare a sgreddare i vicini lassù che c'è le luci accese? Ok, andiamo a dare la pappa a Serafino e andiamo in casa. che dobbiamo far passare la notte. Domani mattina puliamo le... Cioè Lisa pulisce le stalle, giustamente lei è l'aiutante. E io devo recuperare questo... Serafino? 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 Ciao Serafino! Brava, in seguida. Vai vai, mordici le chiappe. Vai vai. Mordici? 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 No, 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 no. Serafino, mordi le chiappe a Lisa, dove sta? Ma perché questo cane mi segue? Non lo fa sto stumando. Niente, sta mangiando. Mi interessano le tue chiappe. Andiamo, andiamo. Ma guarda, guarda, guarda. E tu dobbiamo prestare. Senti, io vado in casa, se vuoi... Eh, io non passo dalla porta, sono ingrassata. Ma è che... Dai. No, questa è la finestra. Se la fai? Lisa... Lisa non passa dalla porta, raga, no? Non devi saltare. Dai, ci sei quasi? No. Ma... Sto perdendo qui qua. Ok, ce l'hai fatta. Eppure ti vedo così magra, ma... Sono un falso magro, guarda. Va bene, allora, sono le otto e mezzo di sera. Facciamo passare un po' di tempo. Io galleggio. Sì, sì. Otto ore basterà? No, non lo so. Come solo otto ore? Ci svegliamo alle quattro di notte. C'è buio. Quattro e mezzo. E presto. C'è buio ancora. No, vai vai che va bene. Fa presto ad arrivare il giorno. Io una luna così accecante non l'ho mai vista. Allora, guarda qua. Puliamo quindi le... Le mangiato... Sì, sono tutte da pulire. Diamo un'occhiata agli animali, giusto perché al mattino presto è quello che si fa. Allora, pulizia. Ok, va bene. Può andare tutto... Basta pulire anche dai maiali e la produzione è al 96%. Pulendola ritorna al 100%. Quindi, ok. Latte per... Come siamo messe? Beh, latte già, vedi, stanno iniziando a produrre. No! Adesso ti arrangi. Allora, raga, io prendo il manitù, che è qui, vabbè, in realtà. Quindi mi occupo un attimino del pallet delle uova. Andiamo a recuperare il trattore. Andiamo con lo stara. No, no. Ma perché mi effa... Ok. No, lo stara, non questo. Ciccio. Ok. Per fortuna qui è ben illuminata la farm, perché... No, 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 no. Dove stai andando? A pulire dai maialini. Ok, hai già fatto qui. Sei stato veloce. Grazie. No, 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 no. E tre. Sono solo due i pallet pronti, però se il prezzo delle uova è buono, quasi quasi. Non è pronto anche uno di quelli lì giù? Di quali? Dalle galline. Ce ne sono due, c'è caricati, e uno? No, uno è caricato. Ah, almeno ho contatti due, è bella. Ma non fa niente, anche due va bene venderli, perché... Cioè, se il prezzo è buono, io per ora questi ho... Pian pianino, però, il prezzo è buono. Allora, qua è tutto pulito. Allora, devo spostare questo un pochettino. Però di notte questo trattore non è neanche così brutto. Sembra nero. Poi trovi la luce e ti viene la tristezza, ma per il resto... No, non è vero. Allora, sistemiamo... No, aspetta, così è troppo. Così è troppo. Bene, l'ho preso. Sto usando la tastiera, perché con i mani tu preferisco. Ok, l'ho sistemata. Se si girano le ruote, poi, facciamo anche prima, eh. No! Non lo mollare adesso! Adesso puoi. No. Eh, ce lo sto litigando, aspetta. Ma, strano, non lo dici mai. Beh. Ciao, Fulippa. Salutami tua sorella... Daphne. Magda. Beh, c'è più forza che poi si offende. Si chiama Magda, l'altra mucca. Mi ricordavo che c'erano due consonanti vicino, però... Daphne. Eh, meh, molto sorella, letteralmente. Eh. Che colpa mi è sentito quel nome lì. Poi ragazze, Bridget, è sul giornale, eh. Nica voi, quindi. E che c'entra? Ma io parlo con loro. Ma non è che al mattino presto ti devi fare le chiacchiere con le mucche, tu? E con chi parlo. Devi lavorare. E sto lavorando. Eh, meh, c'hai ragione. Ho visto anch'io. No! Cinque. Ma ce la farai. No, sono baggata. C'è baggata la bella. Aspetta. Eh, sì, guarda, ho sentito proprio... Ok, non prendo più in giro, guarda. Guarda che costo mani tu... Ma devo metterci la... E' totato. Allora, aspetta, aspetta. Arrivo, arrivo. Sì, sì, riempiamo il cassone di Popò. Dopo vado a vendere. Ok. Aspetta un attimo. Così faccio... Occupiamo un attimino. Ok. Allora. Inizia pure che adesso ti posiziono il cassone. Sì, sì. No, 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 no. Ok. Ecco qui. Dopo, Lisa, mentre io vado a vendere le uova, se riesci a fare il giro, tu vedi un po' le serre e quali hanno bisogno di... Ah, ok. di concime, che di sicuro comunque serve. Quella di patate, stai attenta perché chiede solo acqua. Non c'è bisogno di mettere il concime. Sì. Anzi, vado a vedere se c'è il sacco di patate da raccogliere. Probabilmente c'è. Ok. Queste patate... Sono indecisa se venderle o darle ai maiali. Ma guarda il prezzo. Perché i maiali per un po' in realtà sono a posto. Quindi potrei venderle sinceramente guadagnarci un po'. Beh, non è che il prezzo delle patate non è mai tantissimo, non è che sale. Beh, magari un po' inizio di scorta per il futuro. No, no, le vendo. Le vendo comunque. No, perché al momento ho bisogno comunque di soldi. Io ho anche il debito ancora qua. Non so, mangiamo prugne da mesi. Sempre al porto sud-est è 373 euro. Vediamo, ci pensiamo. Magari vediamo cosa riusciamo a fare. Ci mando a Lisa a vendere. Allora, anche se il prezzo sta scendendo, quindi mi devo sbrigare, 3.090 euro le uova al montacarichi cereali est. Sono le 5 del mattino sarà aperto quella cosa. Allora, Lisa, devi fare una cosa però. Quando carichi... Cioè, quando carichi, scusami. Quando devi dare il concime alle serre, attacca il trattore rosa. Magari posti il caricatore frontale, così ti muovi meglio, perché ti conviene per fare le manovre. Questo. Dai l'ultima benna, poi basta. Cerca di dividere, perché sennò poi se finisce faccio fatica a accumularne dell'altro. Eccola là. Sette. Sì che c'è anche quello dei maiali, però non lo so quanto ne hanno. Ok. Concime 10.000 dai maialini. L'icuami non ne hanno? E altre 10.000... Sì, l'icuami un po' sì, ma io non ce l'ho il... Eh, no, non lo so. Ma lo spandi l'icuami lo utilizziamo per... Basta così? Sì, sì. Nel caso lo spandi l'icuami lo utilizziamo per i campi. Ok. Non credo che prendano l'icuami. Le serre. No, non credo. Prendo il concime. Ascolta, se non ti scoccia quando dai il concime e se guardi anche se ci vuole fare il giro dell'acqua nel caso faccio il giro dell'acqua quando torno. Quindi andiamo a vendere queste uova che guadagniamo degli altri soldini. Non t'accarichi cereali est. Non si muove. Che è successo? Non si muoveva. No! Spingilo, spingilo. Eh, ok. Queste sono patate. No. Seguiamo il cono verde che si vede bene di sera. È da molto che hai queste visioni. No, no, me lo metto io per segnarmi dove devo andare a vendere. Non lo so. Perché magari non mi sbaglio di strada. Perché non scarica? Come mi mancava questa cosa da fare. Dato che il mio navigatore è rotto. Non pervenuto si dice. Eh, non pervenuto. Dai, vediamo di recuperare i soldini. Uh, ecco, lo sapevo che facevo danni. Meno male, ha resistito. E recuperiamo i soldini che abbiamo speso per il fertilizzante. Di qua è giusto. Vedi che sbaglio strada. Sbaglio lo stesso. Di qua non è giusto. Allora, ora riuscirò a fare manovra. Ma sì, dai, che ce la fa. Ma non la vuole la cacca, questo. Sei stufato. Fatela bastare per tutte. Fai un po' un po'. Interrompi lo scaricamento. Sì, sì, lo so. Il problema è che... Ci ha messo qua questo palo? Deve girare sto coso. Ma sta andando tutto bene, però. Non avverto problemi di alcun tipo. Eh, un pochettino ci sono. Perché vedi che sbaglio strada? Il bello è che seguiamo il cono. Il cono mi ha fregato. Portello cereale. Che vuole? È di qua che devo andare. Ma, Dani, scaricala da dove la vuoi questa cacca. Perché la scarichi? Ok. Tra. Ok, lì si sta litigando. Ancora, ancora, ancora. Butta, butta. Ah, già, è vero. Devo passare da dove c'è la cascata. Ah, guarda. Le patate non curano la cacca che gli avevo dato io per sbaglio. No, io avevo messo l'acqua io, quindi. Mettendo l'acqua caricata il codicino. Ah, ok, perché una volta per sbaglio le ho dato a... Sì, lo so. Ah, te ne hai riaccorta? Ma me l'hai detto tu. Ah, sono proprio furba, però, eh. Ok. Oh, 14.620 euro. Due pallet di uova. Adottiamo una gallina? Eh, è un gallo. Anche io voglio lavorare così, con l'allevamento di polli. Ma com'è che le uova valgono così tanto su farming, scusate? Sarà pieno di culturisti qua in giro, che ti devo dire. Ma veramente? Oh, guarda qua, 60.000 euro. A voglia se li abbiamo recuperati. Mi sono dispesi. Più o meno. Eh, beh sì, avevamo 54.000. No, no, parlavo con questo. Ok. No, 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 no. Non è tutto normale. Faccio anche il giro acqua, eh? Ah, ok, se lo riesci a fare tu, sì. Eh, è già finito. Quindi i terreni sono solo da seminare? Sì. Questo è del lato dell'acqua. No, guarda. Adesso, la prossima volta ci mettiamo a seminare, magari vediamo. Perché vorrei fare una missione, un contratto vorrei prendere. Quindi una semina, l'altra fa il contratto. E magari ci scambiamo, sì, sì. Ci alterniamo ogni tanto. Beh, seminatrice una ne ho. Con quello che devo seminare. O c'è l'altra? Non mi ricordo se l'ho tenuta quella in affitto. Non so. Penso che ormai non ce l'hai più. Aspetta che mi viene il dubbio. Adesso controllo. No, l'ho tenuta. Ah, beh, allora. Beh, c'è da vedere se quella fa seminare qualcosa di... Magari possiamo seminare insieme un terreno e poi faccio anche qualche lavoretto per guadagnare sempre sordini, insomma. Eh, perché, insomma, il trattore lo devo comprare. Voglio un trattore nuovo. Per me. No, un trattore nuovo per mandare in pensione lo Stara. Che 120 ore le ha fatte, eccolo là. E lo vendi, lo vendi, lo buttiamo, lo rottamiamo. Lo rottamiamo. No. Facciamo una collina e ce lo mettiamo sopra come simbolo della farma. Sì, certo. Allora, per il momento questo lo lascio qua. Poi off stream mi sistemerò questi pallet vuoti. Per il momento stanno qui. Tanto lì c'è l'altro. Il cane! Vabbè, possiamo iniziare a prendere le galline. Sì. No, no, ok. Non l'ho preso più. Voglio vedere cosa si può... Perché non si attacca? Si dovrebbe attaccare. Aspetta un attimo. Ma perché non vuoi più l'acqua? Ah, non si attacca perché... Ok, ci vuole l'altro. Io continuavo a voler dare l'acqua alle uniche cose che ho riempito. Ah, perché questa fertilizza qui. Ok, questa tra l'altro fertilizza. Quindi con quella puoi seminare e fertilizzare allo stesso tempo. Mica male. Gira soli. Gira soli, vediamo. Semi di soia, barbacottone, mais e girasoli. Quindi quando facciamo il campo di semi di soia lo possiamo fare insieme. Però il fatto è che tu riesci a... O se no, no, non lo utilizzi quello per fertilizzare così non si fa confusione. Vabbè, basta fare una in metà l'altra nell'altro e poi spassi con la seconda mano solo nell'altra metà. Se fai metà per uno senza incrociarti e riesci. Vabbè, vediamo, dai. Vedremo, stavo adesso. Sì, sì. E' perché praticamente lo stara non attacca davanti. Ah, è vero. Attacca solo dietro. E' quello fatto. Quindi nel caso, vabbè, si seminerà, si fertilizzerà dopo. Se questo funziona lo stesso da fertilizzante dopo. Perfetto. Giro acqua, fatto. Ma anche gli animali? No, no, gli animali sono a posto. Ok, allora ho finito. Direi che siamo a posto, ci possiamo anche fermare. La prossima volta ci seminiamo i terreni, come ho detto, e vedremo di accettare un contratto per, appunto, nel frattempo guadagnare anche qualcosina, perché il tempo che seminiamo dovranno crescere le colture. non sto fermo a non fare niente, cerchiamo comunque di guadagnarci qualche cosina. E magari le patate, sì, le vendiamo la prossima volta. che il prezzo non è male, se non abbassa, ecco, se non scende troppo. Vediamo, ci guarderemo la prossima volta nel mercato, come andrà. Allora, raga, noi ci dobbiamo fermare qui, perché il tempo a disposizione per questo episodio è terminato. Come sempre vi ricordo di guardare i link in descrizione, guardate per, insomma, se volete raggiungermi nel mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato, passate a trovarmi in live, trovate il link. Se volete entrare nel gruppo Telegram alla sala giochi di Nora, trovate il link. Se volete comprare Farming Simulator scontato, lo trovate su cdk.it, su Instant Gaming, oppure sul sito della Giants con tutti i DLC disponibili. Quindi in descrizione trovate tutti i link necessari, insomma, vedete un po' voi. Cos'altro? Condividete i miei video, se vi fa piacere, potete farlo. Spolliciate, commentate, che quando posso io vi leggo e rispondo. Scusate se ogni tanto lo faccio in ritardo, però comunque rispondo, vado a leggere sempre qualcosina. Io vi ringrazio per aver visto l'episodio e vi salutiamo. Alla prossima, ciao a tutti! Ciao ciao!